Quando Martin vedete solo per la città, forse voi penserete dove girando va, solo senza una neta, solo, ma c'è un perché. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche e pescioline e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada. Mangiato per dispetto, in copacco l'incendio, e a piedi poveretto, senza casa lui restò. Allora cosa fece? Voi tutti chiederete, ma questa è una sorpresa che il segreto vi dirò. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pescioline e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada. E tante, tante case lui rifece, ma però, quel tale in copacco tutte quante le incendiò. Allora cosa fece? Voi tutti lo sapete. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pescioline e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada. Allora cosa fece? Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pescioline e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada. Allora cosa fece? Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pescioline e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada. Allora cosa fece? Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pescioline e tanti fiori di lilla.